Siccome dalla protezione civile, dal dipartimento hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora, amici cari, vediamo che capirci bene. Quelle di cui parla la protezione civile sono queste mascherine, le 700.000. In Campania sono arrivate 552.000 mascherine, queste cose. Beh, ci vuole veramente una fantasia, diciamo, accesa per definirle mascherine. A meno che non si pensi alle maschere che usano i nostri nipoti al carnevale. Questa va bene, è maschera per banni, sapete il coniglietto, non me la metto io per non pregiudicare in maniera definitiva quel poco di estetica che le ingiurie del tempo mi hanno lasciato. Ma se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure e avete la faccia di banni il coniglietto. Allora, ragazzi, facciamoci un sorriso anche in momenti difficili, ma non le chiamate mascherine. Per quello che mi riguarda, ma è una scelta mia individuale, ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali, diciamo, le lenti. Sono veramente un prodotto eccezionale. Ma negli ospedali vi voglio bene, vi voglio bene. Per l'amor di Dio. Ciao, Bert. Grazie a tutti.